Buonasera, buonasera, buon mercoledì, è un mercoledì di calcio di quelli... Notizie dell'ultima ora su questo contratto e ci aggiornerà il nostro Gianluca Di Marce. Allora, buonasera, ma ad un inviato speciale che sta facendo la rassegna stampa. Nagatomo, Nagatomo? No, beh, intanto fa il centrocampista nell'Inter, quindi non vanno bene. Il secondo anno in queste grandi scuole... E' vero, è vero, è vero, con le schermaglie, l'eliminazione... Dicono, forse il secondo anno non va bene. Viene da dire questa cosa, in realtà, è un reia abbastanza sorprendente nelle ultime dichiarazioni, no? Insomma, io credo che sia di rottura. Sentiamo invece come va Allegri con l'ambiente. Andiamo a San Siro, perché oggi c'è una partita delicata, delicata perché è la versione... Con... andando a Palermo, con Vanessa Leonardi per Palermo-Cagliari. Novità, sorprese, conferme, per esempio il Cagliari, primo in classifica, stasera è a Palermo. Sappiamo cosa vuol dire essere... Sta lì coperto e poi in contropiede non rinuncia mai, quindi... Chi campi, no? Stare lì in questo stadio, assolutamente... I tappi alle orecchie, lui li deve andare in campo e deve dare tutto in questo momento. Domenica, Udine, non... Importanti controsquadre di questo... Subito sul campo, con il nostro Giovanni Guardalà, che punto... No? Davanti a... Del Piero, ha superato anche Scirea? No, sì. No, no. Juventus che comunque cambia. Anche il mio pensiero in questo momento al presidente Moratti, che si sta vedendo questo... I giocatori abbiano così tanti problemi. Se non potete parlare di questo... Insultatelo da ora e poi, Barottalo, insultatelo, fustigatelo e Conte sarà contento. Dobbiamo mangiare l'erba, pensare da grande, ma avere l'atteggiamento da provinciali. Così parlò Conte, allenatore del... Pronostici, ovviamente, si riapre la stagione. Ancora ce l'avevamo lasciati sfuggire perché è stata la stagione. Ben ritrovati, Sky Calcio Show. Otto partite, otto e che partì? Marco Cattaneo. Otto giocatori davvero in più, no? Invece con la sconfitta... Aiuta la ragione. Aiuta la sconfitta a questo punto. Eh, tu che faccia? Vabbè, scusa. Quello che dici, perché adesso stai parlando di forza. Immagini, Billy Costa Curta, abbiamo visto le proteste da parte degli avversari per la palla. Ce l'hanno accorto gli avversari che... Proprio pure per Allegri al Milan. Ah, proprio per andare dritti, così. Il carattere dimostrato da un Milan in stretta emergenza, in questo... I rischi di un nuovo stadio che impone una nuova cultura, no? Sì, ma può capitare, può capitare. L'hai fatta troppo facile, Christian, quella palla lì, eh. Christian è la seconda volta... E non per le altre, viceversa. Il problema non è che i giornalisti parlino, il problema semmai è il rapporto tifoseria-allenatore. 10 milioni di utili. Bravi, bravi, per questo la lo diamo. Non ho fatto il rafforzamento. Anche oggi ha fatto una scelta non proprio popolare, no, mister, di lasciare partita con l'Inter. No, no, sono fortunato per quello. Stiamo a mannere. Ho capito qual'era la nostra battaglia, adeguare un po' il contratto di... Scusami, Billis, con me di tenerselo stretto in questo momento, Malesani, chi si tiene... Certo che ha un bel ruolo in questo momento, un bel da fare Mihailovic, eh, che da una parte... ...sostituito quando la partita era ormai liscia come l'olio. È una grande esperienza questa per me. Grazie. 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 Grazie.